Da sabato 6 settembre a martedì 9 a Bologna ti aspetta SANA, il salone internazionale del biologico e del naturale. Nello shop biologico più grande d'Italia troverai alimenti biologici certificati, cosmetici bio e naturali, integratori alimentari e prodotti di erboristeria per la tua salute a tutta natura. E con SANA City tutta Bologna si tinge di verde con incontri e appuntamenti bio e naturali per grandi e piccoli in tutta la città. Non perdere SANA a Bologna Fiere da sabato 6 settembre a martedì 9. Grazie a tutti.